Torna l'appuntamento con la raccolta del sangue dell'Avis comunale di Brindisi che ha organizzato due serate speciali per affrontare l'ennesima emergenza di carenza di sacche con un maggiore carico di ricovero e pressioni sanitarie che mette a rischio anche la disponibilità di sangue. Ormai è consolidata la macchina organizzativa presso l'ex ospedale di Summa che consente di effettuare le donazioni nel massimo della sicurezza con una risposta ancora una volta positiva per il numero di sacche raccolte. Abbiamo risposto anche questa volta all'appello della dottoressa Miccoli del centro trasfusionale per cercare di sopperire un pochino alla mancanza di donazioni presso il centro trasfusionale organizzando queste due raccolte infrasettimanali, la prima quella di mercoledì scorso e quella di oggi che abbiamo avuto un'ottima risposta considerando che la settimana scorsa abbiamo raccolto quasi 30 sacche e quella di oggi procede in maniera molto spedita. Noi abbiamo sempre sostenuto, lo diciamo i nostri donatori, che l'accesso al centro trasfusionale per quanto riguarda le donazioni è sicuro e quindi invitiamo sempre i nostri donatori anche in questo periodo difficile a recarsi presso il centro trasfusionale. Sicuramente qui da noi trovano probabilmente una situazione più tranquilla, magari si sentono anche più tranquilli e a noi fa piacere poterli accogliere e venire incontro alle loro esigenze. Anche per poter avere una scorta di sangue sicuramente importante per comunque tutto il periodo a venire.